Vuoi un impianto fotovoltaico? Con lo sconto in fattura lo paghi la metà. Questo provvedimento ti permette di acquistare un impianto fotovoltaico con uno sconto immediato in fattura del 50%. Difatti, maturando il diritto alla detrazione fiscale del 50% in 10 anni, hai la possibilità di cedere questo credito alla Simac che ti installerà l'impianto fotovoltaico con o senza batteria di accumulo. Vuol dire che tu lo paghi la metà del suo costo. Grazie per la visione!